Ciao a tutti da Al Saludatore, ecco voi qui con un grandissimo giornalista, blogger di tutto e di più, diciamolo, Emanuele Carioti. Siamo sui tuoi canali che vedono tutti quanti, ormai abbiamo una certa notorietà, insomma ormai sono anni. E d'altra parte poi... Veramente tantissimi anni... D'altra parte tu sei il futuro della comunicazione, per questo che hai preso il premio Scrapante 2019 per la comunicazione, insieme a tanti altri valenti giornalisti e comunicatori, questo ci tengo sempre a dirlo e a rimarcarlo. E io ringrazio e ne sono veramente onorato che tu e la Commissione avete deciso questo e ovviamente ringraziamo anche il creatore di questa opera, Silvio Benedetto, che salutiamo. Presto tra l'altro lo saluterai. Allora, oggi sei qui perché c'è un regalo per te che mi è arrivato dal nostro comune amico Romolo Buldrini, questo vignettista, questo fumettista, questo disegnatore eccezionale. Ha fatto tantissimi disegni dedicati al Saludatore. Ecco qui. Qua ci sono tutti quei, ma sono centinaia. Sono centinaia. E adesso ve li vorrei far vedere poi. Sono centinaia. Ecco qui veramente belli. Io ti ringrazio. E allora consegno, saluto Romolo Buldrini naturalmente. Ciao Romolo. Ciao Romolo. Invidiamo tutti quanti ad andare a trovare Romolo Buldrini su Instagram o su Facebook. Certo, certo, certo. Con i suoi ritratti VIP d'artista. Certo, certo, certo. Perché lui per lo spettacolo predilige questi disegni e ha anche disegni fatti a Emma Cuccia. Allora, questa è la consegna. Grazie, ecco qui. E naturalmente io personalmente ringrazio Romolo Buldrini per le centinaia di disegni che mi ha... Qua sto con Ferrara, qua sto con la panacechietta, qua sempre con Ferrara. Insomma, mi ha fatto proprio disegni per qualsiasi cosa. Questi qua poi li metteremo tutti incorniciati qui. Eh, vedi anche voi. Cioè, con Fiorello. Con Fiorello. Con Fiorello. Guarda, ecco. Con tutti quanti. Vedremo di farne una copia. E poi abbiamo... Umberto Tozzi sono veramente tanti e anche su Instagram. Ma guarda questo con Fonzi. Questo è immaginario. Guarda questo con Fonzi. Con Ari Vink e Fonzi. Bellissimo, grazie. Guarda, questo è il grande Maurizio Costanzo. Guarda, guarda. Saluto a Maurizio Costanzo e a Maria. Buldrini, bravo Romolo Buldrini. Ecco qui, veramente Di Caprio. Ecco qua, Leonardo Di Caprio. Eh, gran colpo che hai fatto lì, eh. Grazie, grazie. Ci tenevo particolarmente. Striscia allo striscione. Eccolo qui, veramente un grande, anche lui, che... Anche lui è un collega salutatore, perché comunque saluta e insegna tutti questi cartelli, ecco, striscia allo striscione. E veramente l'abbiamo, veramente tanti. L'abbiamo la Duzzo. Eccola qua, Barbara Duzzo. Un live col salutatore, eccolo qui. Eccolo qua. In diretta, grazie Romolo Buldi. Non è la Duzzo, sì, sì, è la Duzzo. Salutiamo normalmente Barbara Duzzo. L'ho intervistata tanti anni fa. Ah, ecco, ecco. Prima o poi la trovo. Bellissima intervista, tra l'altro. Una cosa molto bella, sociale. E niente, eccoci qua. Sono veramente tanti. Diciamo che la dedica è a Romolo Buldrini. Esatto, esatto. Noi ti ringraziamo e invitiamo e salutiamo tutti i fan di Romolo Buldrini. Andatelo e seguitelo. Un saluto direttamente dallo studio Carioti. Ciao, ciao, ciao. Vi saluta e via. Ema di Uber l'hanno diceva non dorme mai. Ema di Uber l'hanno diceva non dorme mai. Ovviamente. Dai. Grande. Ciao. Ciao. Ciao.